Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, in collaborazione con l'Anci del Veneto, i comuni del Veneto, affrontiamo dei temi che sono molto importanti, che riguardano tutti i cittadini da vicino, perché le realtà comunali sono quelle che sono più vicine in assoluto, sia quando operano in un certo modo correttamente, attorno a dei passi avanti, stavo dicendo delle riforme che non possono fare, poveretti, in questo momento ne parleremo, sia quando naturalmente ci sono dei momenti di difficoltà, i sindaci sono sul territorio, sono figure più vicine ai cittadini e quindi parliamo proprio con i sindaci dei comuni che rappresentano il nostro territorio, voi come sempre potete intervenire, ci sono le telefonate, i messaggi, vediamo di conoscere i protagonisti dell'appuntamento odierno, ben arrivato innanzitutto Michele Celeguin, sindaco di Noale, grazie di essere qui con noi, ben arrivato Alessandro Campalto, sindaco di Campolongo Maggiore, Buongiorno Paolo Tonin, sindaco di Campo San Martino, ben ritornato anche a lei Buongiorno, grazie Allora, i temi sono diversi, da un lato ritorneremo su questo discorso del patto di stabilità perché è bene capire che ambito di azione ci può essere, gli auspici poi che i sindaci si fanno con questo nuovo governo perché ogni volta che si insidia, ormai ogni volta siamo abituati che i governi cambiano con una rapidità estrema, ogni volta che si incardina un nuovo governo ci sono sempre auspici, speranze, chissà qualcosa possa succedere, eccetera, Di fatto però i comuni sono bloccati, incardinati in questo benedetto patto di stabilità, che ambito di azione possono avere, quali investimenti possono o non possono fare, a che punto sono arrivati, cosa devono aspettarsi i cittadini, la tassazione locale, che prospettive prevede perché poi alla fine bisogna arrivare sempre a quell'imbuto lì, il dato di fatto oggettivo Con quello che è successo, eccetera, i comuni sono trovati in difficoltà per interventi a causa appunto, come sempre, dell'acqua che è venuta giù, che tornerà a piovere naturalmente, sono stati dissesti, non è detto che naturalmente questi comuni ne siano stati coinvolti, ma in proiezione mancano i finanziamenti per gli interventi e questo è un aspetto importante Poi naturalmente ne emergeranno anche altri che cercheremo di affrontare insieme, con diversi punti di vista, che diversi sono i comuni, diverso il modo di pensare di ciascun sindaco, diverse sono anche le vostre proposte E allora vediamo un po' insieme di capire, innanzitutto un po' presentiamo le realtà, perché è anche bello, conosci le realtà territoriali, ce l'hanno chiesto anche i nostri telespettatori, dire comuni che magari Noale è conosciuta Però non è detto che chi ci segue dall'Emilia Romagna conosca bene Noale, e allora diamo anche di una presentazione quanta è la popolazione, che tipo di connotazione è il comune, poi entriamo nel merito del patto di stabilità Sì, Noale è una città di 16.000 abitanti, è un borgo medievale riconosciuto che sta a metà strada tra Treviso, Padova, Venezia e Castelfranco, proprio in Bari centro Ha ancora la fortuna di avere due torri, la rocca famosa, la rocca dei Tempesta, e ha fondamentalmente un'economia che era fondata fino a pochi anni fa nel manufatturiero Abbiamo una buona percentuale di commercio, soprattutto nel centro storico, e ovviamente l'industria che sta risentendo della crisi che in questo momento la investe in particolare Abbiamo aziende grosse come l'Aprilia, dove quest'anno è stato raggiunto un accordo che fortunatamente ha visto, nonostante la crisi, un accordo tra sinacati e azienda che non ha visto licenziamenti E che il gruppo Piaggio in qualche modo sta rilanciando anche attraverso nuovi modelli, cosa che ci fa ben sperare per il futuro Poi, vabbè, la San Benedetto a Scorzè è vicina a Noale e altre aziende importanti del territorio che fanno soprattutto trasporti e logistica Noale è stato un polo molto importante, soprattutto sulla logistica negli ultimi 10-15 anni in particolare si è sviluppata È un paese di forti tradizioni, di forte cultura, Noale è ricordata anche per le manifestazioni che vengono organizzate In particolare, penso a Noale in Fiore, penso al palio delle contrade del mese di giugno, ma poi per tutte le rassegne che vengono fatte durante le strade Quindi una vocazione anche turistica Soprattutto vorrei dire anche turistica Infatti stiamo un po' riscoprendo il nostro centro storico in chiave proprio di sviluppo e di promozione locale turistica Perfetto Allora, un attimo solo, credo che ci sia una telefonata in attesa Pronto? È caduta la telefonata, vediamo se dopo dalla regia riusciamo a riprenderla Allora, detto questo, colpato di stabilità, come siete messi? Ma guardi, io ho ereditato il Comune nel 2009 da un precedente bilancio di chi mi ha preceduto Che aveva sforato il patto di stabilità E quindi nel 2010 abbiamo subito tutte le sanzioni previste Il taglio dei compensi, oltre che dei trasferimenti dallo Stato Oltre che dalle riduzioni previste in termini di spesa per il personale Dopodiché abbiamo mantenuto il Comune nel rispetto dei limiti del patto Questo non senza importanti sacrifici, vorrei dire Che sono stati calmiarati però in parte da alcune entrate straordinarie Noi sappiamo che lo Stato ci dice investite nel momento in cui voi avete delle somme che entrano Se abbiamo delle entrate pari possiamo fare delle spese per investimenti Sono spese per investimenti che in qualche modo hanno dato origine a alcune opere importanti Soprattutto per quanto riguarda la viabilità, piste ciclabili Quasi 800 mila euro per il restauro di una torre, di una delle due torri medievali che abbiamo L'ultimo intervento l'abbiamo chiuso un paio di settimane fa Con praticamente la risistemazione di una palestra che ormai da 30 anni non ci mettevano le mani Delle scuole, quasi 200 mila euro E poi altri interventi di soprattutto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici Dicevo però che sono stati interventi finanziati grazie ad entrate straordinarie Una in particolare che è durata due anni, un accordo con Enelgas per cui abbiamo avuto Quindi finanziamenti di aziende esterne Sì, finanziamenti e accordi che abbiamo trovato uno con Enelgas in particolare E poi un paio anche per alienazioni di beni del comune Ma sono delle alienazioni che evidentemente hanno carattere straordinario Che non possono essere considerate Qualora non ci fossero state? Qualora non ci fossero state non avremmo potuto realizzare alcune opere in particolare Ma ripeto, queste riguardano soprattutto la spesa per investimenti Quindi la spesa in conto capitale, la spesa corrente che è quella che riguarda Ahimè i contributi, la cultura, il mondo del sociale, le associazioni Il sostegno alle scuole materne in particolare Ecco, su alcuni di questi capitoli abbiamo dovuto mettere forzatamente la mano Non abbiamo toccato i servizi sociali e per ora non abbiamo toccato tutto quello che riguarda Il mondo della scuola in particolare i contributi alle materne E i contributi per il trasporto scolastico alle famiglie Considerando che erano servizi che in qualche modo avrebbero gravato ulteriormente Sui già esigui bilanci familiari Però per esempio, ecco, grossi tagli sono stati fatti su tutto il settore culturale E anche su una buona parte del settore sportivo Che non sono settori marginali, contrariamente a quello che si può pensare Sono settori che danno vitalità a un paese Anche da un punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista sociale Direi soprattutto in termini associativi Nel momento in cui troviamo decine di persone che si impegnano Per la realizzazione di alcune iniziative a favore della cittadinanza È evidente che quando viene a mancare anche quel già piccolo sostegno economico Che dava il Comune, ecco, la situazione vengono drasticamente a peggiorare E in questo senso, insomma, ci siamo rivolti agli sponsor privati Che per fortuna hanno risposto e continuano a rispondere Però vorrei dire sempre con più difficoltà E in ogni caso non si può governare pensando di fare programmazione amministrativa Su entrate che non ci sono, che non sono certe Stiamo cercando di lavorare in questo momento per il bilancio 2014 Ma di fatto non abbiamo ancora i dati che ci permettono di pensare a quali entrate abbiamo E vediamo che la crisi in particolare ci porta ad avere persone Che con il numero di persone che non pagano alcune imposte è crescente E questo significa buchi di bilancio con tutti i relativi tagli conseguenti Se a questo ci mettiamo le ulteriori restrizioni E non parliamo di tasi in questo momento che lo Stato sta imponendo agli enti locali Direi che non c'è da sorridere molto per il futuro Anche se personalmente non sono mai pessimista nelle cose Dico semplicemente che le politiche di riduzione della spesa pubblica Che a mio avviso sono sane da un punto di vista contabile Perché se non diminuiamo il debito pubblico E' evidente che le cose non possono cambiare Vanno pure fatte ma non possono essere fatte a 360 gradi Ci sono degli enti che vanno perseverati Non tanto perché sono di serie A o serie B Ma quanto perché storicamente questi enti hanno speso bene E su questi non si può continuare ad abbattere la scura Chiarissimo Che cosa dice del suo comune invece? Davo un po' entriamo nel merito specifico anche di un po' di discussione Insomma perché i punti qua sono stati fissati in una situazione chiara La vostra invece che comune è? Beh il nostro Campolongo Maggiore è un comune per me straordinario Perché se no non farei il sindaco di questo comune Che si colloca nella parte sud della riviera del Brenta Un po' esterno a quella che è appunto l'asse del naviglio storico con le ville E a cavallo con la Sacisica Quindi è un comune che gravita storicamente sia sull'area veneziana Sia sull'area appunto della Sacisica del Padovano Un comune di 10.500 abitanti E' cresciuto molto negli ultimi 10 anni Anche proprio grazie al boom dell'edilizia E grazie anche alla messa a disposizione di molte aree residenziali Di aree insediative dove ha tratto tantissime famiglie Soprattutto da Padova, da Mestre e dalla prima cintura urbana E' un comune dove molti sono venuti ad abitare Anche per la qualità dei servizi che offre Abbiamo diverse strutture sportive Abbiamo ben 4 plessi scolastici Quindi comuni in crescita Comuni in crescita Che però dall'altra parte della medaglia E' un comune che nonostante siano stati fatti grandi sforzi In termini attivi e produttivi Sì, ha dato delle risposte all'artigianato Ha dato risposte a determinate situazioni di attività locali Però non abbiamo grandissime aziende Che sono insediate nel nostro territorio Quindi non è come l'apriglia della situazione E' un comune dove si vive bene Però questo d'altra parte Se poi andiamo a vederlo negli aspetti anche economici generali Della contabilità anche locale Non ha grandi entrate legate appunto al gettito di grandi aziende Ma è un comune povero sotto certi aspetti Quindi dovete fare i conti con questa situazione di economia Sì, dobbiamo in qualche maniera farci bene i conti su questo In questi anni comunque sono state attuate Tutta una serie Abbiamo agito sostanzialmente su tre fronti E io sono al giro di boa del mio mandato amministrativo Abbiamo agito sostanzialmente Attuando tutte le riduzioni di spesa possibili In termini di contenimento energetico In termini di riduzione anche delle manutenzioni sulle aree verdi Abbiamo cercato di potenziare invece i capitoli dei servizi sociali Perché in questi anni la drammaticità della crisi che si è creata In particolare nel nostro territorio Dove l'economia è molto legata soprattutto all'artigianato Legato all'edilizia E a tutte le attività che ci ruotano attorno Ha sentito fortemente Le famiglie hanno sentito fortemente di questa situazione Quindi abbiamo potenziato quel settore D'altra parte dove non riesce ad arrivare il comune con i suoi servizi Abbiamo lavorato col mondo del volontariato Col mondo dell'associazionismo Invece a creare quelle sinergie utili A far proseguire alcuni servizi importanti Parlo di servizi ausiliari alla scuola Parlo del trasporto scolastico Parlo degli aiuti alle famiglie Eccetera eccetera Cioè siamo riusciti in qualche maniera Però il volontariato non dovrebbe fondare la propria efficienza Determinati servizi solo sul volontariato Se ci costrettono Certo Però esiste un principio Il principio di sussidiarietà Che anche questo non è una parola messa là a caso Se un comune assieme a queste realtà Che nascono spontaneamente nel territorio Riesce anche a mettere in piedi delle cose utili Su questo andiamo a spingere E anche perché sono cose che non riusciremo in qualche maniera a fare Se non ci fossero queste situazioni L'altro settore in cui ci stiamo muovendo Invece è cercare di allargare un po' Quella che è l'orizzonte Anche per il futuro di questi piccoli comuni Parlo di unione dei comuni Parlo di mettere in rete tutta una serie di servizi Per cercare di farli costare meno E per cercare invece di poterli fornire anche in futuro Perché c'è in discussione insomma Anche la tenuta stessa di alcuni servizi per gli enti locali E dopo parliamo anche dell'unione dei comuni Perché la prospettiva C'è stata anche una recente unione di un paio di comuni Spontanea Vedere se è fattibile Vediamo anche quali comuni potrebbero farlo Quindi l'affrontiamo insieme Finiamo la presentazione Che poi abbiamo anche la pubblicità Che segna un po' un passaggio anche di argomenti Il suo invece Allora Campo San Martino è un comune di quasi 6.000 abitanti Che sorge sull'asta del fiume Brenta Diciamo che è nella statale della Val Sugana Che collega Padova a Trento e così via È un comune non molto grande Come si può desumere dal numero di abitanti Ma è fortemente caratterizzato da un'industria Quanti abitanti ha? 6.000 Scarsi 5.800 8.90 Che vediamo ormai non rileva perché patta di stabilità Qualche giorno fa Va bene Comunque ecco È fortemente caratterizzato da un'industria E da un artigianato effettivamente molto forte Noi abbiamo industrie che sono all'avanguardia mondiale La Facco che si occupa di impianti aviotecnici L'Arneg che è leader mondiale nella refrigerazione Negli arredamenti per negozi Ecco è sempre un comune che ha Ha tratto mano d'opera da tutti i comuni limitrofi Perché era partito da una vecchia storia di artigianato Da noi venivano prodotte le scoppe in saggina Per tutto il territorio nazionale ma anche europeo direi Quindi è una forte caratterizzazione C'erano anche delle aziende che erano fermate Certo che sì Abbiamo il record mondiale della scopa più grande del mondo Quindi una vecchia storia che il nostro comune caratterizza Fabbriche e aziende che hanno tenuto queste Ecco al momento la situazione è questa Diciamo fortunatamente non abbiamo grossi problemi di casse integrazioni O di licenziamenti Anche se queste aziende purtroppo non assumono E anche noi cominciamo a sentire Diciamo così un po' la morsa della disoccupazione Io lo chiedo perché abbiamo avuto anche sindaci dove ci sono stati territori drammaticamente colpiti dai licenziamenti Noi poco lontano abbiamo qualche situazione Esatto infatti stavo dicendo Che proprio hanno visto una situazione cambiare da così a così Anche per quel che riguarda poi la riscossione come si diceva dei tributi locali Esatto no che poi diciamo ecco teniamo Cioè anche noi che abbiamo conseguenze sui nostri cittadini per l'occupazione che hanno in altri posti Dove alcune famiglie purtroppo si trovano completamente senza nessun tipo di sostegno Per cui anche da noi abbiamo dovuto intervenire anche pesantemente diciamo con servizi sociali e aiuto a queste persone Ecco per esempio portiamo avanti da un po' di tempo dei progetti condivisi con Etra Che è un po' l'ente in cui assumiamo delle persone per sei mesi Dandogli anche uno stipendio Stiamo progettando anche adesso qualche cosa che a breve dovremmo riuscire a mettere in piedi Che riguarda un progetto da condividere fra comune e altri enti Per assumere delle persone in presenza di disagio Finanziandoli con voucher comunali Quindi ecco stiamo intervenendo anche in questo senso pesantemente Anche da noi abbiamo una forte caratterizzazione sull'associazionismo e sul volontariato Abbiamo dei gruppi molto forti che sono molto attivi e con cui collaboriamo costantemente Il comune nostro proprio grazie anche alla presenza del fiume Brenta Ha anche degli aspetti naturalistici che sono davvero molto importanti Stiamo da noi tanto per dire Avevamo le colonie turistiche quando ancora non si andava al mare Avevamo la città di Padova che portava i bambini Nelle nostre aree abbiamo un'ansa del fiume Brenta Che proprio era una colonia estiva E quindi vorremmo riproporlo Ci stiamo operando per In mettere nel patrimonio comunale queste aree Perché l'idea è proprio quella di Sfruttare anche una vocazione turistica Perché ci sono dei posti che sono incantevoli Che la gente non conosce Allora il principio è questo Noi diciamo è inutile che i nostri giovani Si mettono in fila e facciano ore di coda Per andare che ne so nei posti turistici Quando noi abbiamo dei posti che se conosciuti Sono molto e molto meglio Molto e molto meglio dei posti di turismo Col patto di stabilità come siete messi? Beh io lo chiamo in altra maniera Lo chiamo il patto di stupidità Perché credo che non sia assolutamente possibile Che comuni che hanno delle risorse proprie Non le possono spendere E non dico che le possono spendere Per fare il monumento al sindaco O a qualcun altro Ma che le possono spendere Per mettere in sicurezza le scuole I fiumi Noi abbiamo il fiume Brenta Che ha caratterizzato il passato Con un disastro nel 66 Abbiamo avuto dei disastri enormi E quindi dobbiamo per forza Avere la possibilità di spendere i soldi Che sono dei nostri cittadini Allora lo scopo del patto di stabilità Secondo me è un po' così preoccupante Perché secondo il mio punto di vista È fatto per bloccare i soldi dei nostri cittadini E per portarli a spendere da altre parti E questo non è giusto Ci opporremo in tutte le maniere Perché i soldi del territorio Devono rimanere Ecco beh ma più che altro Siccome adesso poi C'è la tesoreria unica È ovvio che non sono Quindi una parte è già andata Come lei sa Secondo me sono già stati utilizzati Ma sono sempre nostri attualmente Almeno sulla carta È da dire molto in teoria Per il momento in cui non puoi spenderli Che sono tutti quanti messi in tesoreria unica Secondo me non ci sono già più E quindi è tutto un sogno In cui si lascia un'illusione Per evitare che ci sia Una rivolta di sindaci Non so cosa ne pensa anche lei Diciamo un giro un po' Perché è stata una manovra step Adesso è successo Si verrà poi da dire Quei soldi non ci sono più Se li ha mangiati lo Stato Tanto per cambiare E fine Ma di fatto è stata una manovra di cassa Che lo Stato ha fatto Per una questione di contabilità generale Non penso che i soldi non li abbiamo più Nel senso che li abbiamo E in linea in tutto teorica Possiamo spenderli Il problema è che È in linea in tutto teorica Nel senso che se non abbiamo Se non abbiamo delle risorse aggiuntive in entrata Lo Stato ci impedisce di spenderli Quindi il fatto che io li abbia in cassa qui O li abbia in cassa lì Personalmente mi cambia Poco la vita Mi cambia la vita Anzi la cambia molto di più i cittadini Per il fatto che questi soldi Io li vorrei Li dobbiamo spendere Li dobbiamo investire Anche perché Ho fatto un bilancio Poche settimane fa Con il mio assessore dei lavori pubblici Insomma in 4 anni e mezzo Sono quasi 3 milioni e 8 Di spesa pubblica Per opere pubbliche fatte dal comune Significa che abbiamo speso Abbiamo investito Abbiamo pagato Ciò significa che la gente ha lavorato Artigiani Imprese Del territorio Delle zone E hanno fatto opere anche importanti Io dico che In questo momento L'ente locale È il volano Reale Dell'economia Della pubblica amministrazione Molto più di quanto Possano rappresentare Grandi opere Fatte dallo Stato O dalla Regione Alle quali partecipano Grandi ditte Noi facciamo muovere Gli artigiani Facciamo muovere Gli operai Facciamo muovere Le piccole Medie imprese Del territorio E le facciamo muovere Con certezze Di pagamenti Perché fino a prova contraria 30-60 giorni Paghiamo comunque E non abbiamo ancora trovato Alcuno che ci ha dato Rogne o problemi In questo senso Allora io dico In questo senso Io parlavo prima Proprio del fatto Che il patto di stabilità Va fatto rispettare Perché non è giusto Che abbiamo Un debito pubblico Così alto E non è giusto Soprattutto che spendiamo Centinaia di miliardi di euro Per il pagamento Degli interessi Sul debito pubblico Che sono spese Che non vanno In servizi Che non vanno A concretizzare alcunché Ecco E questa è una cosa Sbagliata Però Dobbiamo anche pensare Che ci sono enti Che hanno speso E che continuano a spendere I soldi male E non perché lo delizia Il sindaco di Noale Ma perché lo dicono Datti certificati Dal ministero delle finanze Dell'economia delle finanze E ci sono degli enti Invece che questi soldi Sta spendendo bene Che arrivano E pochi mesi dopo Grazie a progettazioni Interventi Vanno spesi Allora su questo Forse una riflessione Il governo centrale Dovrebbe farla Assolutamente Poi voglio sentire Anche il vostro punto di vista Su questo Andiamo subito in pubblicità Pochi secondi Poi ritorniamo Tra poco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti